Siamo pronti, metto il guantin, ti prepari il mantuen, 50 metri, allora com'è che deve essere la nota, il mantuen? 50 in sinistra 4, in destra 4 si sporca, 50 in sinistra 4 meno, in destra 3, ah lì la tua amica, t'ho visto? Eh sì, eh. La sarai mi a dire che ti ha detto sei bellissima, sei animalissima, grazie. Allora la parte in sinistra 4, in destra 4 si sporca, dai, dai nem, nem Cordioli, Cordioli in bocca al lupo di nuovo, eh, crepi il lupo e vai. Manca 10, 3, 2, 1 vai. Sinistra 4, in destra 4 si sporca, 50. Sinistra 4, in destra 4, in destra 3, in destra 3, in destra 2 no, sinistra 5, 50, molto bene. Sinistra 5, sinistra 5, sinistra 3, meno, 3 dal muro, tornante sinistro. Andalo, guardi, guardi il lì, guardi il lignari, secondo, bravo, a reiti tre, in sinistra 4, di 3 vai, sinistra 4, 50, sinistra 3, meno, meno, chiude, attenzione, sinistra 3, meno, meno, chiude. attenzione 30 destra 4 lunga chiude 3 vai 4 lunga chiude 3 vai 20 destra 5 subito destra 3 vai 30 array sinistra 3 in D3 lunga lunga D3 lunga lunga sinistra 3 vai 100 avvista e gli americani destra 4 si in sinistra 5 destra 4 si in sinistra 5 100 e cartelli rovesci destra 4 sporca destra 4 sporca 50 in sinistra 5 destra 4 sinistra 4 e al 1 destra 5 200 avvista alla casa 20 destri tornate a sinistra 20 20 destra e tornate a sinistra sporco tornate a destra vai 50 sinistra 5 e 50 tornate a sinistra 50 array di 2 vai di 2 vai di 5 50 array tornate a sinistra sinistra T4 vai 30 T3 vai 30 D4 in sinistra 4 30 sinistra 4 array sinistra 2 meno attenzione array sinistra 2 meno attenzione 30 D4 50 50 ai cartelli rovescio D4 50 e D4 subito array sinistra 2 meno sinistra 2 meno lunga in D4 in destra 4 50 array T3 in sinistra 3 vai D3 in sinistra 3 vai in D3 vai se cazzo che tocca Dio poi sinistra 3 e in destra 3 lunga tocca la rua per 30 tornate a destra polessa si si tocca la rua metti sinistra 4 in destra 3 meno destra 3 meno e subito sinistra 3 meno meno e al muro destra 3 in sinistra 3 e destra 4 si destra 4 si 50 destra 3 in sinistra 3 vai D3 in sinistra 3 vai 20 D2 attenzione 20 D2 attenzione le fracce qua 30 D2 vai in sinistra 3 in sinistra 3 destra 4 in sinistra 3 lunga Dio voglia 20 in sinistra 3 in destra 3 8 in destra 3 in destra 3 lunga lunga sporca attenzione attenzione sporca Dio porco sporca attenzione Dio voi voi ai cartelli rovesci sinistra 3 meno vai sporca 50 D3 in sinistra 3 D3 in sinistra 3 20 20 sinistra 4 vai 50 al muro D3 meno sporca attenzione D3 meno sporca attenzione veneta MES vai via Dio ok sinistra 3 30 al palo sinistra 3 destra 4 al poggiolo sinistra 4 50 destra 4 lunga e a race lunga e a race sinistra 3 meno meno vai sinistra 3 meno meno vai 50 a vista e ai cartelli cambio strada in destra 1 sinistra 2 in destra 3 in sinistra 3 e dosso in destra 3 attenzione per sinistra 4 bene alla torre destra 3 30 addosso per destra 2 attenzione addosso per destra 2 attenzione in sinistra 5 e 100 a vista e all'Enel destra 3 chiude 2 molta attenzione destra 3 chiude 2 molta attenzione eccoli qua e subito sinistra 3 e ai cartelli destra 3 meno 20 destra 3 sinistra 2 e 20 cambio strada in sinistra 1 sinistra 5 30 sinistra 4 50 destra 3 sì sinistra 4 destra 3 sinistra 4 50 cambio strada in destra 1 attenzione 30 torsso in destra 4 per sinistra 4 100 sinistra 3 50 destra 1 molta attenzione sinistra 3 lunga lunga in destra 3 e sinistra 3 20 sinistra 3 in destra 3 sudosso destra 3 sudosso 30 destra 2 meno 20 destra 2 in sinistra 2 vai 50 a vista destra 3 meno sudosso per dosso per 30 sinistri al muro di 2 al muro di 2 attenzione per sinistra 2 chiude 1 e cambio strada in sinistra 1 50 destra 2 attenzione destra 2 attenzione 30 sinistra 3 in due tempi in due tempi e 30 destra 2 in sinistra 3 e in destra 3 20 destra 4 lunga in sinistra 3 chiude 2 molta attenzione chiude 2 molta attenzione eccola qua e destra 2 buona seglia buon perfetto bravo perfetto perfetto 1 2 2 2 Grazie a tutti.